Torna in piazza la zalea della ricerca, appuntamento previsto per domenica 8 maggio in piazza Umberto I a Gela in occasione della festa della mamma. L'iniziativa è dell'AIRC, l'associazione italiana ricerca sul cancro, la delegata locale, grazie a Condello Città. Noi abbiamo sempre con successo avuto le manifestazioni e gli eventi, si è concluso da poco quella dell'uovo della ricerca, abbiamo fatto veramente una grande raccolta con circa più di 14.000 euro. Questo significa che la popolazione gelese sembra sensibile e lo sarà, penso, anche domenica. Saremmo in piazza dalle ore 7.30 e a conclusione dell'evento intorno alle 13.30. Si potrà ritirare la zalea con un contributo di euro 15 e si ha diritto al rinnovo della tessera annuale e alla pubblicazione del fondamentale, che è una pubblicazione dell'AIRC trimestrale. Per chi non volesse ritirare la zalea potrà dare un contributo di euro 10 e si ha diritto al tesseramento e naturalmente anche alla pubblicazione. Contro il cancro io ci sono è lo slogan che caratterizzerà la giornata. Noi siamo da 25 anni presenti a Gela e progressi ne abbiamo visti e concretamente adesso c'è veramente una grande soluzione per quanto riguarda i tumori, per esempio alla mammella sono quasi scomparsi se si fa una dovuta prevenzione e anche per altri tipi di tumori. Quindi aiutiamo ancora la ricerca e il futuro è nelle nostre mani. In questi anni i ricercatori finanziati dall'AIRC hanno ottenuto successi eccezionali dimostrati non solo dall'aumento esponenziale della sopravvivenza, ma anche dal miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici. C'è anche un messaggio da dare. Questa raccolta che avviene in tutta Italia, circa 3.700 piazze italiane, i proventi e i fonti raccolti in questa occasione saranno dedicati per quanto riguarda i progetti di ricerca per i tumori femminili. Quindi significa che è anche un contributo a quello che è la figura femminile, alla mamma, alla moglie.